Ciao, sono Paolo Traverso e da 23 anni faccio l'amministratore di condominio e da diversi anni mi occupo anche di formazione e crescita personale. Ho deciso di portare le mie competenze all'interno del mondo degli amministratori di condominio perché è un lavoro che è estremamente pressante. Quindi quello che sto facendo con una società che si chiama Professioni Risultati SRL è aiutare gli amministratori a amministrare condominio in modo che questa attività diventi sostenibile. E quindi ho deciso di scrivere un libro per arrivare a più persone. Quindi questo libro tratterà appunto del mio metodo per fare in modo che se tu amministri condominio tu possa arrivare a farlo in una maniera veramente più facile per te dal punto di vista personale, professionale e senza che diventi una tortura. Nel momento in cui ovviamente tu vuoi fare un qualcosa, farlo bene e arrivarci più velocemente e non puoi sapere tutto, non puoi avere le competenze per farlo. Proprio per questo ho deciso di affidarmi a libri d'impresa e partecipare al loro Book Camp che è questo percorso, tre giorni e in tre giorni abbiamo completato praticamente i contenuti del libro e quindi in maniera molto rapida sono riuscito ad arrivare al mio obiettivo. E quindi se anche tu vuoi arrivare al tuo obiettivo, non farlo da solo, appoggiati a chi lo sa fare meglio di te e ti consiglio di prendere in considerazione libri d'impresa. , che sarebbe così.